Continuiamo con la lettura accogliendo Martino Pedrazzini. Ha una laurea in storia, lavora con i giovani, insegna italiano agli stranieri ed è scrittore. Ama le storie d'avventura e di viaggio, è interessato dall'attualità e dalle diverse culture. Io aveva 28 de marzo, per aver visto la notte passata fuoco in una isola, nella mattina sorgessimo perso questa. Vedessimo una barca piccola, che la chiamano Boloto, con otto uomini de dentro a propincarsi nella nave capitanea. Uno schiavo del capitano generale, che era de Zamatra, già chiamata Tropprobana, gli parlò, il quale subito intesero. Vennero nel bordo della nave, non volendo entrare dentro, ma stavano uno poco discosti. Vedendo il capitano, che non volevano fidarsi de noi, li buttò un bonnet rosso e altre cose ligate supra e un pezzo de taula. Lo pigliorano molto allegri, e subito si partirono per avvisare il suo re. De circa due ore vedessimo venire due balangai, che sono barche grande e cui si le chiamano, piene de omini. Nel maggiore era lo suo re, sedendo sotto uno coperto de store. Quando il giunse appresso la capitania, il schiavo li parlò, il re lo intese, perché in queste parti il re sanno più linguaggi che gli altri. Comandò che alcuni suoi intrassero nella nave. Lui sempre stette nel suo balangai poco longe della nave, finché li suoi tornorono, e subito tornati si partì. Il capitano generale fece grande onore a quelli che vennero nella nave. Gli donò alcune cose, per il che il re, innanzi la sua partita, volse donare al capitano una barra di oro grande, una sporta piena di gengero, ma lui, ringraziando il molto, non volle accettarle. Nel tardi andassimo con le navi appresso alle abitazioni del re. Il giorno seguente, che era il venerdì santo, il capitano generale mandò lo schiavo, che era lo interprete nostro, in terra in uno battello, a dire al re se aveva alguna cosa da mangiare, la facesse portare in nave, che resteriano bene satisfatti da noi, e come amici, non come nemici, eravamo venuti alla sua isola. Elvenne con sei, ovvero otto uomini, nel medesimo battello ed entrò nella nave abbrazzandosi col capitano generale, e donò lì tre vasi di porcellana coperti di foglie piene di riso crudo, e due orade molto grande con altre cose. Il capitano dette il re la veste di panno rosso e giallo fatto dalla torchesca, e un bonnet rosso fino agli altri suoi a chi cortelli e a chi specchi. Poi si fece dare la colazione, e per il schiavo gli fece dire che voleva essere con lui casi casi, cioè fratello. Rispose così, voleva essere verso di lui. Da poi lo capitano che mostrò panno di diversi colori, terra, coralli, molta altra mercanzia e tutta l'artiglieria facendola descargare. Alcuni molto si spaventarono. Poi fece armare un uomo come un uomo d'arme, e li messe attorno tre con spade e pugnali che li davano per tutto il corpo, per la qual cosa il re restò casi fuori di sé. Li disse per il schiavo che uno di questi armati valeva per cento degli suoi. Rispose che era così che in ogni nave ne menava duecento, e ne armavano di quella sorte. Li mostrò corazzine, spade, rodelle, e fece fare ad uno una levata. Poi lo condosse sopra la tolda della nave, che è in cima della poppa, e li fece portare la sua carta di navigare e la bussola, e li disse per l'interprete come trovò lo stretto per venire a lui, e quante lune sono stati senza vedere terra. Se maravigliò. In ultimo li dice che voleva, se gli piacesse, mandare seco due uomini a ciò li mostrasse alcune delle sue cose. Rispose che era contento. Io che andai con un altro. Grazie a tutti.